Oggi procediamo al sorteggio dei componenti delle commissioni di valutazione dei concorsi pubblici per un dirigente medico disciplina di pediatria e un dirigente medico disciplina di medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro. Sono le ore 9 e 10 e si è riunita la commissione ex articolo 6 dpr 483 97 nominata con deliberazione del direttore generale numero 183 2014 così composta Emanuele Olivero presidente, Simonetta Carboni componente, Paola Brondino componente supplente con funzione di segretario. Nel senso dell'articolo 25 del dpr 483 97 la commissione deve proteggere al sorteggio dal ruolo nominativo regionale di un dirigente del secondo livello dirigenziale ora direttore appartenente al profilo alla disciplina oggetto del concorso. Ci ho premesso la commissione dato che la data del sorteggio è stata pubblicata per tutti i concorsi sul bollettino ufficiale della regione Piemonte numero 14 dell'8 aprile 2021. I sorteggi dovranno essere effettuati dall'elenco nominativo personale dipendente della regione Piemonte. Verranno estratti tre nominativi, un componente titolare, un supplente e una riserva. La commissione prende atto che i dirigenti medici e responsabili di struttura complessa inseriti nell'elenco regionale sono il numero di 19 per la disciplina di pediatria. Mentre per quanto attiene alla disciplina di medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro, il numero di dirigenti medici direttori di struttura complessa è inferiore a 10 e pertanto il senso della normativa dirigente è necessario integrarlo con i nominativi del personale di servizio presso le strutture ubicate nelle regioni di mitrofi. In questo caso il numero è stato integrato con l'elenco della regione Lombardia. Gli dirigenti medici e responsabili di struttura complessa inseriti in tale elenco sono dunque 22. Le operazioni di sorteggio verranno effettuate utilizzando 10 numeri da 0 a 9, ciascuno inserito in un contenitore di plastica e un recipiente non trasparente in cui questi ultimi verranno inseriti. La commissione si atterrà alle seguenti disposizioni. Si estaurranno tanti bigliettini quanti sono le cifre che compongono un numero massimo sorteggiabile, di cui la prima contraddistingue le unità, la seconda le decine, fino a ottenere un numero rientrante in quello dei candidati all'estazione. Procediamo quindi con le modalità descritte alle operazioni di sorteggio per quanto riguarda anzitutto il concorso di dirigente medico disciplina di pediatria. 2. Componente titolare unità. 9. Ok, lasciamo pure fuori e procediamo con le decine. 5. Valido. La seconda le indici. Dopo che non sono le indici. Lo com'è? Nel numero 5. Non sono le indici. 4. numero 12, Marra Antonio, azienda Tolino 5, riserva, numero 3, va bene così, nel senso che il 3 era già il titolare nominato dalla regione, quindi resta solo l'unico sorteggiabile il 13, e quindi Santo Vito Savino, riserva, azienda ASL Città di Torino. Quindi ricapitoliamo per la pediatria, titolare uguale Andrea, supplente Marra Antonio, riserva Santo Vito Savino. Procediamo con il sorteggio per quanto attiene la disciplina di medicina del lavoro e sicurezza negli ambienti di lavoro. Unità 3, procediamo con le decine. 9, non valido. 2, non valido. 6, non valido. 5, non valido. 4, non valido. 0, valido. 0, valido. Ok, 0,3 Alfonso Santo, ASL CN1. Andiamo con il supplente. 0, 0, lasciamo pure fuori e procediamo con il 10, che potrebbe essere solo 10. Sì, esatto. 4, non valido. 3, non valido. 5, non valido. 7, non valido. 6, 8, 6, 8, 6, 8, 6, 2. Numero 20, quindi supplente Trinco Roberto. Riserva. 3. 3, allora va bene così, perché non può che essere il 13, perché il 3 l'abbiamo già sorteggiato, quindi la riserva è il numero 13, Imbronio Pietro, ATS di Bergamo. Ricapitoliamo. Titolare, Alfonso Santo, numero 3. Supplente, Trinco Roberto, numero 20. Riserva, Imbronio Pietro, numero 13. Ok? Sono le ore 9 e 15. Possiamo considerare che concluse le operazioni di sorti.